L'amica geniale e appassionare così tanto. Mamma mia, e tu? Tu faccio io, così, una di fronte l'altra. Loro non si conoscono, però Lila comunque nota questa bambina. Il casting è durato 6-7 mesi. Abbiamo cercato persone in ogni parte di Napoli. Mio fratello era stato preso per fare questo provino e io e mia sorella l'abbiamo accompagnato e hanno provato a fare il provino noi. Azione! Che fai? Ma vengo. Il mio personaggio parte dai 8 ai 11 anni. Mi somiglia perché è forte. Abbiamo lo stesso carattere. È una persona molto bella secondo me. Ma ci vogliamo provare o non ci vogliamo provare? Sapere ci ha aiutato sul set, spiegandoci le emozioni, le parole, come le dovevamo dire, in che posizione dovevamo stare. È un crescente interiore, cioè è impressione di spiacere per me. È sempre spiritoso, allegro. Oh ragazze, sbaglia una! Mamma mia! Sbaglia una! Ti fa sentire a tuo agio. Lavorare con Saverio è bellissimo. L'hai detta tu! L'hai detta tu! L'amicizia. L'amicizia è stata la cosa più bella. Il momento in cui mi hanno scelto sono stata felice, emozionata. Mi sono sentita veramente dentro. È una bella esperienza che ti porti adesso. Sì! E stop! Benissimo! Grazie a tutti! Ciao, ciao! Grazie a tutti!